Resta l'attesa per conoscere l'esito della decisione del GIPA di Milano rispetto all'omicidio di Mohamed Mouna, il 26enne marocchino, assassinato domenica scorsa a Paternoda al connazionale Issam Lamidi, di 36 anni. Mouna era arrivato a Paternoda a poco più di 10 giorni per poter lavorare in campagna, ingrossando le fila di quella forza lavoro sfruttata e sottopagata. Lui, come migliaia di altri nordafricani, rappresentano gli schiavi dell'era moderna, pagati con poche decine di euro al giorno senza contratti né tutele, costretti a vivere quei pochi mesi all'anno in luoghi di fortuna. Il campo di Ciappe Bianche a Paternoda è l'esempio massimo di quella a degrado, contro il quale si lotta a parole o con piccoli gesti misericordiosi, mai con vera volontà di porre fine a quel sistema. In questo clima è maturato l'omicidio avvenuto per pochi euro, c'è chi parla di 8 euro, qualcuno di 18 euro di debito tra vittime e carnefice. Per Mohamed, le cui fatiche di una vita carica di sogni e di difficoltà si sono fermate sull'asfalto di Via Verga, la necessità oggi di farlo rientrare in patria dalla sua famiglia. Ed il clero paternese, su quanto accaduto, fa sentire la sua voce con una nota siglata dai sacerdoti della XII Vicariato, paternora Galna, una lettera che fa riflettere sul valore che diamo agli uomini, classificandoli ancora oggi in serie. Gli scorsi giorni, per quanto luminosi nella solennità della martire Agata, patrona della nostra arcidiocesi, sono stati tuttavia funestati da almeno due drammatiche notizie, si legge nella nota. Il 30 gennaio, una terribile violenza di gruppo perpetrata ai danni di una tredicenne alla Villa Bellini. Il 4 febbraio, il truce, assassino del 26enne Mohamed Mouna nella nostra paternò. In entrambi i casi, dice ancora la nota, la violenza si è consumata in luoghi pubblici, aperti, normalmente frequentati. In entrambi i casi si parla di immigrati, gli aggressori del 30 gennaio e la vittima del 4 febbraio. Solo che nel caso della violenza di gruppo, il fatto che fossero immigrati ha amplificato enormemente la notizia, mentre nel secondo caso, e cioè nell'omicidio corso a paternò, il fatto che essere un immigrato fosse la vittima, ha letteralmente azzerato la notizia, la svuotata d'interesse, l'ha annichilita, pur nell'urgenza della sua tragicità, facendo sì che morisse due volte. Sembra dunque che il valore della vita umana, come pure tutto quell'apparente senso civico, siano sempre secondari rispetto ad altri elementi, come quelli etnici e culturali, si legge ancora nella missiva. I sacerdoti evidenziano che non ci si vuole lavare le mani, come dei moderni Ponzio Pilato, voltarsi dall'altra parte davanti alla morte. Noi sacerdoti di questo dodicesimo vicariato, si legge ancora nella lettera, vogliamo sollevare una voce che ci richiami alla sacralità della vita umana, bene sommo e mai secondario rispetto a qualsivogli elemento etnico, religioso, culturale. Una vita è una vita, ed è tanto preziosa agli occhi di Dio Padre, che pur di salvargli ogni volta la vita, ha consegnato a noi quella del suo figlio, e questo figlio è tanto lì, nella ragazza oltraggiato alla villa comunale, tanto qui nel giovane ucciso a Paternò. Da qui la decisione di proporre un momento di preghiera in suffraggio di Mohamed insieme alla comunità islamica della città, con l'augurio che siano in tanti a partecipare, l'annunciata decisione che, se ci fosse bisogno, si è pronti a contribuire economicamente per riportare la salma di Mohamed nella sua terra. Grazie a tutti.